nome e cognome alessio giungato con la g pavone angelo soprannome alex g pollo come ti chiamano alessio ale angelo che fai nella vita dovrei studiare anch'io cosa ti aspetti da di trovare qualcun po di lavoro per cui mangiare infatti è ben organizzato ma ma anche no pensi di aver appreso qualcosa qualcosa si dai sul c anche se non serve più un cazzo però sì che ci sono delle belle ragazze al campo hobby hobby smanettare sul computer sottere le ragazze ti sia fatta qualche amico o amica amica spero di essere fatto in che seno va bene lasciamo per loro dai loro voi sogno nell'armadio è doppiare che tra fuori purtroppo sono ancora come dice quel tizio da un paio d'anni diciamo tra un paio lo schioppo pure bene ma anche no no bevo ogni tanto così qualcosina la parola cedici più spesso porco zero cazzo tuo pregio e tuo difetto parlo assai non risponde storie positive una sì con la mia ragazza storie negative lasciamo bene un bielo pietoso un bielo un bielo pietoso anch'io l'asciugamano una trapunta cosa ti lega all'altro cosa ti lega sto mattina che è più buono io rollo ti senti buono ma anche no non risponde racconta una barzelletta di qualcos'altro parlo sempre me che mi sto che zitto cosa ne pensi di rollo rollo è unito è troppo buono il migliore cosa pensi di angelo chi angelo scusa lui cosa pensi di alessio non lo conosco professore migliore viaggi peggiori viaggi Enzo viaggi tutto altro ciao da un bacetto ma anche no datemi un bacetto muovete anche dobbiamo concludere l'intervista guardate che costa il nastro ma muovete non datemi datevi bacio volante è finita